Questo chiedo a Tiziano, che è il presidente nazionale della WISP, di darci il suo saluto e in qualche modo il suo avvio di questo percorso. Vai Tiziano, grazie. Grazie, grazie Raffaella, grazie a te. Un saluto, un ringraziamento non formale a tutte e tutti voi, dirigenti e operatori dei comitati. Non aggiungo nulla a quello che già sottolineava bene Raffaella, la partecipazione non solo all'appuntamento di questa sera, ma tutto il percorso progettuale assume una valenza ancora più importante nella fase storica complessa che stiamo vivendo e che stiamo vivendo sui nostri territori, nel rapporto con le associazioni con le società sportive, nella vita quotidiana dei comitati, quindi grazie. Ovviamente, altrettanto un saluto e un ringraziamento veramente sentito a Trianda Lucarelli, direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie a Analetto, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Lunaria con UNAR e Lunaria. WISP diede vita nel luglio del 2020, nell'estate del 2020 all'Osservatorio contro le discriminazioni nello sport, dedicato oggi alla memoria di quell'uomo straordinario che fu per tutti noi e non solo Mauro Valeri. Ancora ovviamente un ringraziamento, me lo permetterete in casa, in casa WISP, saluto Salvatore Farina che ci ha raggiunto, responsabile politica per la progettazione e componente di Giunta Nazionale, Daniela Conti, responsabile delle politiche per l'interculturalità e la cooperazione, Marta Gianmaria responsabile dell'Ufficio Progetti, poi Raffaella Chiodo Carpinski che l'abbiamo appena ascoltata e che ci accompagnerà, vi accompagnerà per tutto il progetto. Una prima fase progettuale che ha portato alla selezione di dieci comitati territoriali, dieci comitati che quindi svolgeranno ruolo, grazie alla loro anche pregressa esperienza proprio nella gestione di attività contro le discriminazioni, appunto svolgeranno ruolo di antenne, di presidi territoriali per raccogliere e monitorare episodi discriminatori di violenza nello sport, ma io dico ancora di più soprattutto per, o comunque anche per supportare, per formare dirigenti, tecnici, associazioni, società sportive in direi vere e proprie azioni di prevenzione, costruendo quindi reti o rafforzando reti con il sistema sportivo locale e con il terzo settore. Trento, Vicenza, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Caserta, Matera, Cagliari, se non mi sono appuntato male le città. Tutto questo io credo, ecco, senza dubbio, in una fase storica appunto come dicevamo particolare, per certi aspetti tremenda e non penso soltanto all'emergenza sanitaria pandemica, che sappiamo essere stata devastante e continui ad essere molto pesante per le nostre comunità, per il settore sportivo. Sappiamo che il nostro mondo è uno sicuramente dei più colpiti anche nell'impatto economico-finanziario, una crisi non ancora superata, ma penso anche a tutte quelle crisi, definiamole così, che stavamo vivendo da tempo, quindi ben prima anche della comparsa del Covid, una crisi sociale diffusa, sicuramente inasprita dal coronavirus, pensiamo a una pesante crisi climatica, pensiamo a una crisi della democrazia, o quantomeno dei sistemi di rappresentanza anche sul piano globale, povertà, conflitti nel mondo, insomma situazioni anche come quelle recenti che si sono verificate in Afghanistan, ma solo per farne un esempio. Il numero allora di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni, un numero sempre più in crescita, un numero che ha superato abbondantemente gli 80 milioni di persone nel mondo, dati certificati dall'UNHCR, come sapete. Allora il tema dei migranti, dei rifugiati, che è stato tra l'altro al centro della tre giorni di Move Congress, dell'Assemblea dello scorso fine settimana di ISCA, questo network mondiale di cui WISP fa parte e che tra l'altro ha eletto Daniela Conti nel comitato esecutivo. Ancora congratulazioni Daniela, in quel congresso abbiamo con te, con Raffaella, con lei, l'ha portato anche testimonianze vere, quotidiane dell'impegno della WISP. Insomma, la direi, la definirei così, ecco, una complessa questione legata ad una visione, ad un'idea di come immaginiamo la vita delle comunità nel mondo. Io credo che la WISP sia dalla parte giusta, ecco, e credo che la WISP abbia una consapevolezza sempre più importante, quella che non si governino fenomeni complessi senza assumersi la responsabilità di fare scelte chiare, di assumere scelte chiare. Siamo un'associazione, lo dico e non lo nascondo, anche con l'orgoglio di chi appunto in questo momento ne ha la massima responsabilità in termini di rappresentanza che ha nelle proprie ragioni identitarie proprio la scelta, ecco, di stare dalla parte di coloro che immaginano un sistema sicuramente di relazioni inclusivo, un sistema di relazioni anche fra le comunità mondiali con un costante scambio interculturale, dove le diversità appunto culturali e sociali sono messe alla base di questo percorso di rafforzamento di una convivenza pacifica. Lo sport, lo sappiamo, ha da sempre rappresentato quantomeno nell'immaginario collettivo quell'ambito attraverso cui veicolare esempi positivi, rispetto, fratellanza, riconoscimento del valore delle diverse, delle diversità, delle diverse abilità, un terreno, un ambito però sappiamo bene che non è indenne, che non è esente da contraddizioni, a volte anche forti. Che fare allora? Io credo che un'associazione come la nostra debba continuamente interrogarsi con responsabilità e che possa rispondere con quella soggettività ecoassociativa che abbiamo ben scolpita nel nostro statuto e che dobbiamo però agire nella quotidianità. Credo che allora lavorare con impegno, costruendo alleanze, alleanze importanti affinché attraverso lo sport, che sia uno sport praticato, l'augurio è questo, ma che sia anche semplicemente uno sport guardato, si possa ribaltare, ecco, questo paradigma e io credo rendere quindi effettivo, quantomeno contribuire a rendere effettivo il valore dello sport, in questo caso del nostro sport, dello sport di base, dello sport amatoriale, come grande mediatore culturale e sociale. Sicuramente un ponte, ecco, di dialogo e conoscenza tra culture diverse, un'occasione di emancipazione, delle persone, di inclusione, di coesione delle nostre comunità, di sostegno appunto alle persone più fragili, di proposte e quindi anche di strategie che possano essere sempre più efficaci, diciamo così, al passo con i tempi, nel contrastare, nel prevenire ogni tipo di violenza e di discriminazione. Vado velocemente a concludere con questa, diciamo, finale considerazione. Io credo che non ci si debba mai sentire autosufficienti e che questo convintamente lo si debba portare anche all'interno di un'associazione, di una rete associativa, grande, complessa, ma grande come la nostra. Ovviamente l'auspicio di tutti noi è di tornare presto, non sarà semplice, ai numeri che avevano consolidato negli anni la forza anche numerica, ma con una forza qualitativa dietro quei numeri della WISP, oltre 16.000 associazioni e società sportive affiliate, oltre 1.300.000 associati. Ma nonostante questo, ecco, io credo mai sentirsi autosufficienti. Portare avanti un lavoro costante appunto in rete, col movimento sportivo, con le istituzioni pubbliche, grazie ancora a UNAR, con le organizzazioni sociali, grazie ancora a UNAR e con l'avvio di questo progetto io credo che si dia già dimostrazione, ecco, di come poter, di come sia importante mettere in campo alleanze per affermare, promuovere e rilanciare una vera cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Per noi quindi significa, tutto questo significa continuare ad avvertire quella importante tensione etica per garantire coerenza sostanzialmente tra la nostra identità WISPina, tra, diciamo, lo sviluppo di quell'acronimo che è WISP, un italiano sport per tutti, e quindi soprattutto la rispettiva azione concreta da mettere in campo. Credo che l'osservatorio contro le discriminazioni nello sport, Mauro Valeri, possa essere veramente una, una, la rappresentazione plastica di tutto questo. Quello che accade da noi tutti i giorni, da ormai tantissimi anni, con l'arrivo di tante persone che chiedono asilo e rifugio e speranza e guida nei territori che conosciamo, ecco, tutto questo ha un'attinenza diretta con quello che noi vogliamo andare a monitorare, cioè le discriminazioni nelle varie forme che verranno anche descritte, illustrate, ci aiuterà molto su questo, grazie, non credo che ci fosse questo aggancio molto diretto e chiaro con la realtà quotidiana che viviamo, quindi ti chiederei di parlare tu adesso, Triano, grazie. Grazie, grazie Raffaella, grazie Presidente Riziano Pesce, complimenti a Daniela Conti di questa, di questa nomina molto importante, saluto tutte e tutti, buon pomeriggio, anche grazie a Naletto ovviamente che è il nostro partner all'osservatorio e a tutti, tutte le donne, gli uomini della UISP che sono collegati o che ci, che seguiranno poi in un secondo momento questo incontro. Allora, ovviamente l'osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport non è nato l'anno scorso, ma è nato nelle teste, nei cuori a partire da Mauro Valeri, a Daniela, Raffaella e altre persone, diciamo, che hanno avuto un'intuizione importante e che ha portato poi alla costruzione dell'osservatorio, che è quello di comprendere che il mondo dello sport, i campi sportivi, sono probabilmente i contesti principali dove formandosi il carattere di un giovane all'interno di un contesto di competitività, ma anche di amicizia, di interazione, di convivenza, i valori vengono trasmessi e questi valori ovviamente non sono dati per scontati, ma in qualche modo devono essere trasmessi nella maniera migliore, perché come sappiamo benissimo ci sono i cattivi esempi che ogni giorno ci capitano nel nostro percorso. Voglio fare un accenno di un episodio molto recente. Avete sentito nella partita Saxarubra di Vittoria Roma, dove un ragazzo nero è stato insultato con epite di razzisti e questo ragazzo pare, almeno da quando risale la notizia, sia sparito un po' dai radar e abbia fatto sapere che non vuole più giocare nel campionato di eccellenza e al calcio in generale. E questo è il motivo numero uno per il quale abbiamo creato l'osservatorio contro le discriminazioni nello sport. Non solo in questo caso, ma anche il hate speech sui social, tutta una serie di azioni, di atti razzisti e di discriminatori hanno come effetto principale e come intenzione principale è quello di escludere le persone, di togliere loro gli spazi di vita per confinarli e marginarli il più possibile. E quindi una struttura come quella dell'osservatorio ha come primo compito quello di impedire che questo accada. E anzi, al contrario, deve essere un motore che spinge le persone sempre di più a uscire allo scoperto di vivere la loro vita come ritengono di volerla vivere, arginando e demarginando tutte quelle forze negative che invece cercano di farsi avanti cercando di trasmettere valori negativi e di odio, di odio, di distrezzo, di intolleranza, tutti purtroppo elementi che sono presenti nella nostra società e qui mi collego con quello che ha detto Raffaella rispetto ai tempi che viviamo in questo momento. Anche prima era così, era molto forte, il razzismo ormai da qualche anno ha preso piede in maniera importante. Noi in pieno lockdown abbiamo deciso di andare avanti con la nascita dell'osservatorio, ma questo per il semplice motivo per dare un segnale alla società comunque al mondo sportivo per dire sì, in questo momento le attività sono ferme, sì, in questo momento il movimento dei balconi ci sta dicendo che siamo uniti sulla stessa barca, in realtà la storia ci insegna che i momenti di emergenza, i momenti di crisi molto spesso hanno un effetto rimbalzo negativo, quindi quello che erano i bersagli preferiti prima dell'emergenza lo diventano potenzialmente dopo ancora di più, anzi se ne trovano anche di nuovi, ricordiamo tutti le persone di origine orientali come erano bersagliate, come se avessero nel loro DNA il gene più propenso a infettarsi del virus del covid, quindi delle cose aberranti che abbiamo vissuto anche come italiani vorrei ricordare, perché purtroppo diciamo la nostra memoria diventa sempre più breve, ma dopo i cinesi siamo stati noi in Europa quelli che venivano visti come gli untori e quelli che gestivano le pizzerie a Parigi e le infettavano in maniera volontaria, quindi questo ci insegna che a chiunque deve essere chiaro che se il bersaglio oggi è uno, domani è un altro e dopo domani potrei essere io, quindi la risposta razzista e discriminatoria è sempre sbagliata in ogni caso. Comunque l'osservatorio è stata una risposta e ha lavorato anche molto in maniera diciamo non evidente per diversi mesi senza fare grossi proclami perché non voleva essere un'operazione di marketing o di comunicazione ma vuole essere un'operazione invece di rete, di persone e strutture che presidiano in maniera strategica il territorio, che sono in grado di far emergere quelli che sono i casi di discriminazione sul nostro territorio nazionale, che lavorano insieme per trasmettere in tutte le forme possibili dalla formazione, dalle attività di comunicazione, i valori positivi dell'inclusione e dello stare insieme e devo dire la risposta è stata molto positiva, infatti al nostro osservatorio hanno già aderito quasi la totalità delle federazioni sportive nazionali, oltre ad associazioni, a federazioni locali che spontaneamente hanno chiesto di poter aderire e che noi ovviamente abbiamo accolto con molto piacere. Questi sono segnali importanti di un mondo che comunque sente la necessità di reagire, cosa che in passato come sapete benissimo, non lo insegnerò certo io a voi, questa sensibilità prima non c'era oppure era solo a parole, è diventata invece un'intenzione concreta da parte delle federazioni sportive che ci hanno dato un riferimento di una persona da contattare in caso di casi di discriminazione e abbiamo già realizzato durante la settimana contro il razzismo una campagna di comunicazione Keep Racism Out che ha avuto un grande successo nel marzo scorso. Quindi un po' di attività le abbiamo realizzato, tante ancora ne faremo e la giornata di formazione di oggi, di inizio di formazione di oggi è importante per avviare un po' un lavoro di raccordo e ringrazio quindi le antenne UIS sul territorio che da tanti anni fanno appunto questo lavoro di attenzione, di sostegno ai valori sportivi a livello locale e saranno fondamentali ovviamente per il lavoro che ci apprestiamo a fare. Nel monitorare noi dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi è in qualche modo non solo una persona, un soggetto che raccoglie o che semina, che diffonde il fatto che esiste questo osservatorio, ma c'è anche un ruolo da svolgere proprio nell'essere capaci poi di riportare quanto si registra sul territorio, quindi da un lato essere sicuramente quelli che propongono la diffusione delle schede che poi saranno quelle che ci consentiranno di raccogliere i dati, ma anche di essere capaci di percepirli. È un po' su questo che chiedo aiuto a Grazia per aiutarci a sviluppare quel lavoro di raccolta. Grazie. Allora io vorrei spiegare perché siamo davvero contenti di partecipare a questo lavoro, a partire da ciò che ha mosso l'osservatorio che abbiamo promosso da un po' di anni sull'evoluzione del razzismo nel nostro paese. Siamo felici di questo perché sin da quando abbiamo iniziato a fare un lavoro specifico dedicato all'analisi del razzismo nel nostro paese, ovvero a partire dal biennio 2007-2009 che ha portato poi alla pubblicazione del primo libro bianco sul razzismo in Italia e che abbiamo poi continuato a pubblicare con una cadenza biennale. E poi con la costruzione del sito di Cronia anche di ordinario razzismo, da un lato ci siamo posti l'obiettivo di mettere a tema nel dibattito pubblico nel nostro paese dell'esistenza di un consolidamento del razzismo che per molto tempo, nonostante che UNAR fosse già stato istituito prima e nonostante che delle direttive europee fossero state adottate prima, comunque continuava ad essere rimossa. Per molti anni abbiamo avuto un dibattito pubblico che tendenzialmente ogni qualvolta si è presentato un caso di discriminazione o di violenza razzista, anche molto grave, ha teso a considerare questi fenomeni come dei casi isolati, dei casi straordinari e continuando a riproporre la convinzione e l'idea che non vi fosse un problema di xenofobia e razzismo nel nostro paese. Quindi da un lato ci siamo posti l'obiettivo di rendere visibile l'evoluzione di questo fenomeno, naturalmente non a fini speculativi assolutamente, ma nel tentativo di dare evidenza al razzismo quotidiano che purtroppo interessa tutte le diverse sfere della vita sociale e pubblica, perché siamo convinti che l'attività di racconto, l'attività di monitoraggio sia assolutamente indispensabile per prendere conoscenza profonda delle caratteristiche che sono adeggi questo fenomeno da un lato, ma soprattutto per reagire, reagire collettivamente in modo possibilmente coordinato e ovviamente in rete. Ecco perché consideriamo questo progetto particolarmente importante, perché sin da allora, analizzando proprio quello che è successo nel nostro paese nell'ultimo decennio, ma ovviamente il problema purtroppo risale da prima, ci siamo resi conto che non c'è sfera pubblica che sia immune dal razzismo e dalle discriminazioni, c'è anche un grande attivismo da parte della società civile nel tentativo di reagire, ma c'è anche una grandissima frammentazione e dall'altra parte spesso c'è una difficoltà a mettere insieme in un'azione coordinata soggetti che sono tutti in qualche modo coinvolti dall'evoluzione del razzismo nel nostro paese, ma che faticano a collaborare per contrastarlo. Da qui ecco la valenza di un progetto come questo, dell'idea dell'osservatorio, perché laddove denunciamo da tempo un problema di forte legittimazione legittimazione culturale, sociale e purtroppo in alcune basi anche istituzionale, perché c'è stato anche questo, delle discriminazioni del razzismo, c'è evidentemente l'importanza e la necessità di operare a tutti i livelli e quindi laddove ci sono i luoghi di socialità, i luoghi di formazione, i luoghi anche di crescita, come bene veniva detto prima, è molto importante che si adottino degli interventi che da un lato monitorano quello che succede e dall'altro cercano anche ovviamente di stimolare la reazione. Ecco, quindi io credo insomma che sia particolarmente importante che un osservatorio nazionale che ha scelto, lo ricordo, ma insomma sicuramente tutti voi lo sapete perché siete qui, ha scelto di dare priorità a tutte quelle forme di discriminazione, di razzismo, di xenofobia che per lo più tendono a rimanere invisibili perché non riguardano i grandi personaggi del, diciamo, noti all'opinione pubblica, cioè il razzismo e la discriminazione che si verificano nel campetto di calcio locale con più difficoltà, no? Riescono ad avere una visibilità nel dibattito pubblico e molto spesso appunto non vengono neanche segnalati o denunciati. Quindi è molto importante che ci sia un processo che pian piano porti a radicare una una rete diffusa di prevenzione, di monitoraggio, di prevenzione e di contrasto delle discriminazioni del razzismo. Questo vale ovviamente anche per il mondo dello sport e per cui proprio per questo noi riteniamo che questo progetto abbia una valenza molto importante. Da questo punto di vista in realtà sarà assolutamente fondamentale il contributo che i comitati UISP porteranno al progetto proprio perché l'intenzione sarebbe quella di riuscire a cattare, a catturare, a monitorare e possibilmente anche appunto stimolare azioni di risposta tutte quelle forme di discriminazione di razzismo che avvengono a livello locale e anche negli sport diciamo così meno monitorati. Sottolino anche questo anche sulla base dei caschi che noi abbiamo monitorato sino ad oggi con cronache di ordinario razzismo in realtà ci siamo resi conto che la gran parte dei casi noti, segnalati o di cui si discute riguardano il mondo del calcio. Qualche caso in più lo abbiamo registrato per quanto riguarda il mondo del basket negli ultimi tempi ma in generale diciamo così è il calcio che è lo sport italiano diciamo che attrae maggiore attenzione in assoluto nell'opinione pubblica a avere una maggiore visibilità e quindi in qualche modo anche il razzismo e le disseminazioni che che si verificano in questo mondo ed escono forse ad avere un po' più di visibilità ma il razzismo non risparmia naturalmente neanche gli altri sport. Quindi da qui ecco l'importanza del ruolo che può avere una sperimentazione di un sistema di dieci antenne locali disperse sul territorio che diciamo adottando un sistema di monitoraggio comune riescano da un lato appunto a portare a rendere visibili quei casi di razzismo che tendono a rimanere nell'invisibilità e soprattutto anche a diciamo possibilmente sollecitare anche forme di risposta da questo punto di vista.